È una conferenza stampa di CGL Will dove presentiamo lo sciopero sulla legge di bilancio. Uno sciopero che si farà in tutta Italia, ci sono state date calendarizzate, si parte il 17 per arrivare in Calabria l'1 di dicembre. Manifesteremo con sciopero a Cosenza, a Catanzaro e a Reggio Calabria. Chiediamo al Governo di rivedere questa legge di bilancio che riteniamo che penalizzi fortemente il mondo del lavoro dipendente, non si rinnovano i contratti pubblici, non si fa sociale perché si taglia sulla sanità, sulla povertà, sulla disabilità, sul fondo della non autosufficienza e sull'istruzione. Non si parla di mezzogiorno. La discussione che si sta facendo in queste ore su gabbie differenziate insieme al regionalismo differenziato rischia di spaccare questa parte del Paese, rischia di marginalizzarla, questo momento invece di stare insieme, di rendere il Paese coeso rispetto anche a quello che è lo scenario internazionale. Chi porta avanti queste logiche è chiaro che porta logiche secessioniste che non fanno bene, in modo particolare al mezzogiorno, dove non dimentichiamoci che si rimodulano i fondi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, sul tema dei servizi all'infanzia, sulle politiche sociali, sull'infrastruttura, è saltato l'investimento sull'alta velocità e Gioia Tauro non viene attenzionato da parte del Governo il tema sull'ETS. Ci sono tante questioni, quindi noi manifestiamo, ma manifestiamo perché noi vogliamo anche discutere di come si costruisce un Paese per i prossimi anni che stia insieme da nord a sud, che dia una risposta al tema salariare, al lavoro povero e che contrasti fortemente le disuguaglianze che si stanno allargando in maniera importante, disuguaglianze intergenerazionali, disuguaglianze sociali, disuguaglianze territoriali. Tanto i temi nazionali abbiamo detto che questo Governo è la seconda manovra finanziaria, che continua a fare manovre solo e esclusivamente per mantenere la propria maggioranza di Governo e non nell'interesse del Paese. È un Paese che continua ad avere problemi da un punto di vista economico e finanziario, le persone non ce la fanno ad arrivare a fine del mese, i prezzi sono lievitati, anche quelli della spesa, abbiamo i prezzi dell'energia che sono arrivati alle stelle, nonostante gli annunci, gli slogan e i video che si facevano contro il caro prezzi benzina, se ricordate, ancora ci sono i prezzi dei carburanti, i prezzi dell'energia che sono molto elevati. Non c'è un ritorno alle fasce sociali più marginali, hanno eliminato quel minimo di reddito che poteva essere d'aiuto ai soggetti più in difficoltà e non sono state fatte, individuate altre misure a sostegno della povertà. Quindi in questo momento non si fanno politiche di sviluppo, non si fanno politiche di investimenti, non si crea lavoro, si stanno mannando via i giovani, se ne stanno andando dal nostro paese, c'è stato soprattutto nel mezzogiorno una ripresa dell'emigrazione giovanile verso il nord e verso l'Europa, non ci sono politiche legate alle infrastrutture, abbiamo avuto anche nel sud dei finanziamenti, l'alta velocità è stata sacrificata al ponte sullo stretto, anche in Calabria, non ci sono investimenti anche sui porti, noi abbiamo questo tema dell'ETS che coprirà fortemente Gerataro, dove abbiamo avuto una debolezza del governo anche ad assumere delle iniziative a livello europeo. C'è un tema che riguarda il mezzogiorno che è stato completamente dimenticato, anzi è stato proprio cancellato dalla agenda politica del governo, un sud tradito dalle aspettative di questo governo, perché in questo momento noi su temi importanti come la salute non abbiamo nessuna risposta, anzi noi abbiamo un sistema sanitario della salute pubblica che è molto penalizzato in Calabria, non si assumono medici, non si assumono infermieri, si ricorre molte volte alla sanità privata e poi c'è questo dato allarmante, 4 milioni di persone nel paese hanno smesso di curarsi perché non hanno i soldi per curarsi. Se un paese non riesce più a garantire il diritto all'istituzione, perché c'è il tema dell'istituzione, noi in Calabria abbiamo un dimensionamento scolastico dove si chiuderanno 79 autonomie scolastici, come lo creiamo il futuro se non investiamo sulla scuola, sulla formazione, sui giovani? E poi c'è questo tema delle marginalità, noi abbiamo soprattutto nel mezzogiorno comuni nell'entroterra che sono stati completamente abbandonati, dove c'è oltre al calo demografico anche un aumento della popolazione più anziana, ai quali non si danno risposte, anzi sul tema delle pensioni noi stiamo avendo una regressione addirittura peggiorando i temi della Fornera e poi non ci sono investimenti anche su quelli che sono la sostenibilità socioassistenziale degli anziani, non si fanno investimenti sull'autosufficienza, non si fanno politiche sociali e quindi in questo momento il Sud ha sicuramente più motivi per scioperare, noi il giorno 1 sciopereremo in Calabria, su tre piazze, Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria e il 17 ci sarà lo sciopero del lavoro pubblico, quindi gli insegnanti, i medici, gli infermieri, i trasporti si fermeranno il giorno 17, dopodiché proseguirà la mobilitazione perché anche sulla restenza Calabria siamo molto indietro. Abbiamo detto che gli unici investimenti che sono stati fatti fino ad oggi nelle zone economiche speciali sono quelli dei privati, quindi io vorrei anche invitare alla prudenza anche dei soggetti istituzionali a partire dal Presidente della Regione cercando in qualche modo di chiedere al Governo investimenti pubblici attraverso la partecipazione pubblica perché la zona economica speciale intanto l'abbiamo voluta noi come sindacato qualche anno fa e la Calabria è stata la prima ad avere la zona economica speciale grazie al lavoro che ha fatto il sindacato unitario, il CGLG e il Gisle Will e grazie al precedente Governo e al precedente Governo regionale, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare e dopodiché noi in questo momento ci aspettiamo che ci siano investimenti pubblici da parte di questo Governo perché in questo momento quello che manca è proprio la risposta del Governo nazionale verso il mezzogiorno. In Calabria siamo indietro con la vertenza Calabria, abbiamo detto che sul lavoro non ci siamo, sono state fatte promesse ai precari, ai tirocinanti di contrattualizzazione e di stabilizzazione da parte della Giunta regionale, stiamo aspettando che si facciano altrimenti porteremo la vertenza Calabria nelle piazze come abbiamo detto i giorni scorsi. Una serie di mobilitazioni che avete in prima linea la CGL e la Will però non avete trovato l'unitarietà, la CIS non ha aderito. Ma è chiaro che noi stiamo mantenendo la nostra piattaforma unitaria su quelle che erano le cose che avevamo concordato con la CIS. Quindi tutte le cose che voi leggerete sulla piattaforma sono tutte azioni che noi abbiamo concordato con la CIS, tranne la questione del salario minimo che noi riteniamo sia un pezzo importante per il mezzogiorno. Le altre cose noi le avevamo in qualche modo tutte condivise con la CIS. Se poi la CIS vede solo delle luci, vede anche delle luci su questa manovra noi abbiamo detto che le uniche luci che vediamo in questo momento sono quelle che arrivano con le bollette energetiche maggiorate quelle delle lampeggianti delle macchine quando ti dicono che la benzina non la si può più mettere perché la gente non ce la fa più nemmeno a fare il pieno. Quindi da questo punto di vista, al di là delle battute, auspichiamo che la CIS torni ad un'azione unitaria. Noi chiediamo ovviamente, rispettiamo la posizione della CIS ma chiediamo anche rispetto alla CIS perché non si può dire che quando la CGL e la Will assumono delle posizioni sono politiche e quando poi si declina come l'uomo del fare il ministro Salvini invece si fa attività sindacale. No, delle due l'una. Quindi da questo punto di vista io credo che ci voglia il massimo rispetto noi rispettiamo la CIS, ovviamente aspettiamo che possa ritornare con noi a mobilitarsi perché la mobilitazione sarà lunga, non si fermerà il primo dicembre e credo che il sindacato se non assume la sua ragione di esistere che è quella di portare in piazza quando le cose non funzionano le proprie rivendicazioni non credo che ci siano altre cose da fare. Dopodiché c'è tutto il tema che riguarderà gli interventi normativi, il referendum e così via che discuteremo insieme con chi ci vorrà stare nei prossimi mesi.